Ora andiamo a prendere in considerazione la fogna che arriva in via Primo Maggio. Allora la fogna che arriva in via Primo Maggio prende con un'entrata di 40 anche l'acqua che arriva dal rio De Bossoli che in parte segue via dell'agricoltura, in parte entra dentro qui e prende diciamo tutta l'acqua di tutta questa zona qui che è una zona bella grande, una piccola parte va in via Labriola, anzi piccolissima, forse solo quelli che hanno i magazzini nei pressi della strada. Tutto il resto, tutte le altre strade vengono prima mandate via dell'industria, poi continuano, scendono in via Bisenzio che è la strada che poi molte volte entra in crisi perché ha un sovraccarico di acqua e uno smaltimento non ottimale e la zona più bassa di tutti, la via Bisenzio, scende giù e mette in crisi tutta questa zona qui. Via Siena, via dell'Aerobbia. Lo smaltimento di questa zona è fatto con un collocamento con la fogna che arriva in via Palarciano. Da via Palarciano arriva anche la fogna di qua, ci sono due fogne, una di qua e una di là. Però la parte di via De Bossoli che arriva dal rio De Bossoli viene deviata prima in questa cassa di espansione per poi essere smaltita sul meldancione che è questo qui. Qui c'è solo una sala cinesca tarata che attualmente non butta niente perché è chiusa però potenzialmente potrebbe raccogliere anche l'acqua che viene in giù. A Sabla Guardia, in questa zona qui è stato creato, ora qui è stato costruito un magazzino anche, è stato messo un impianto di sollevamento che proprio per alleggerire sia la parte che arriva di qua dalla zona critica che anche parte poi della fogna di via Palarciano di sotto. Poi la fogna continua, va ancora a diritto, entra, la fogna dopo entra in quella di via Primo Maggio quella di via Primo Maggio cioè la fogna continua a diritto, prende tutta l'acqua di via Primo Maggio e l'acqua di via Primo Maggio prende anche tutta l'acqua di tutta questa zona qui e questa zona qui, per cui vedete prende tantissima acqua e qui attraversa il campo e si innesta nella direttrice di 120 che è quella che poi va, segue questa strada, prende qui e va nel calicino. Ora capirete che acqua ne prende tantissima questa fogna ora poi andremo a vedere dopo le criticità se analizzeranno in un secondo tempo.